è tornato il momento dei maglioni ragazzi è tornato stamattina c'è freddo 17 gradi si va al lavoro e ragazzi allora innanzitutto vi invito a mettermi in piace iniziamo subito il video col botto secondo io sono sveglio dalle 5 sono sveglio dalle 5 perché come vi ho detto ieri questa situazione mi sta agitando parecchio dell'agenzia della casa e la banca mi sta agitando e quindi mi sono svegliato stanotte non mi sono più riaddumentato pensando a questo quindi già dormo poco perché ho una vita abbastanza impegnata ci aggiungo anche questo io le robe con serenità a volte non ce la faccio vivermene soprattutto quando una scelta così importante la casa insomma non so voi per me è importantissimo è un passo enorme che sto facendo da solo e quindi non me la sto vivendo benissimo anche perché ci sono tutte queste variabili in mezzo che mi fanno diventare matto comunque ragazzi per il resto va tutto bene a posto lavoro tranquillo oggi questo pomeriggio ho un appuntamento con dei clienti e poi mi vedo finalmente con maria che è tornata dalla germania e quindi dopo mesi riusciamo finalmente a beccarci per aggiornarci un pochino anche l'appuntamento col cliente appunto è un po una novità un progetto che prima o poi ve ne parlerò o comunque salterà fuori nei vlog su una possibile collaborazione molto importante con questa azienda dove non farò da cliente scusa non farò da fornitore di servizio quale fotografo videomaker ma potrei entrare nel direttivo con calma e o comunque far parte della dello staff diciamo di questa start up e visto che ho già lavorato in start up sia dal punto di vista ingegneristico perché in olanda come sapete ero lib data scientist di una start up nel mondo tech ad asternam ma ho anche lavorato in start up dal punto di vista fotografico gli anni fa lavoravo con una società che produceva calze su misura tutte personalizzabili tu andavi nel sito te le creavi come volevi poi un robot te le creava ma fantastico e quindi sono anche spiccio e ste robe e ho esperienza ho lavorato anche con una start up di vestiti anni e anni fa ma lì è stato per poco per un paio di volte mentre le calze per un annetto qualcosa abbondante vediamo questa dove potrebbe portarmi è la prima volta che scelgo di non far non essere fornitore però ragazzi c'è dal lato agitazione perché questo vuol dire che mi richiederà ancora più tempo di quello che sto mettendo ora nelle cose che come vedete dai miei vlog già tantissimo però almeno lo farò con una mia amica e di conseguenza quindi riusciremo a fare content creator entrambi in questa cosa quindi dal punto di vista di chiamiamola libertà creativa o comunque impegno creativo dovrei essere abbastanza più libero visto che mi darà una mano appunto a pensare i concepts e quant'altro poi le mani probabilmente me le sporcherò io o comunque me le sporcherò parecchio niente ragazzi grandi novità vediamo se va in porto tutto quanto d'altronde sono loro che si sono avvicinati a me quindi è interessante anche questo e adesso adesso si va avanti io oggi volevo andare in palestra ma penso che sarà impossibile anche perché forse stasera riusciamo a giocare a riusciamo a giocare a paddle dubito perché mancano le persone però magari signori giornata lavorativa finita non mi ricordo neanche se avevo con meglio chi è da sole questo tempo qua non penso ma spero di no stamattina e allora belle novità ho ricevuto la proposta di acquisto firmata dal venditore e di conseguenza ora devo andare in agenzia a firmarla fare il bonifico colmo secco e poi prendere tutte le scartoffie del caso e inviarla alla banca dopo devo andare da una mia amica a prendermi una cosa che mi ero dimenticato da lei il power bank mannaggia a me e poi ho l'appuntamento appunto con i clienti fino alle nove perché poi alle nove mi devo vedere con maria stasera che è finalmente tornata e ci vediamo che la devo aiutare nel suo la devo aiutare al computer per un po di cose io ho visto che alla fine avete presente quando i nonni ti chiedono di mi aggiungi la sveglia tu puoi aver studiato essere ingegnere informatico ho studiato un sacco ecco tipo il mio caso e i nonni mi continuano a chiedere di mettergli la sveglia tu che te sei buono ti che te sei buono vabbè regola la sveglia quando salta la luce e va bene e succede spesso anche in altre situazioni mi dà una mano col computer questo quell'altro e dico sì va bene cioè poi ti dico non è che un cuoco sa forgiare una pentola io non è che necessariamente mi tengo mi intendo di computer però vabbè e si fa ci provo e vediamo un po come va comunque niente quindi il mio programma dalle 5 36 cioè da adesso fino alle 11 e mezza di sera è abbastanza serrato e mi devo ricordare di caricare tutte le videocamere per domani perché domani devo appunto lavorare il pomeriggio di fatto mi sono chiesto permesso al lavoro ne diamoci conto mi prendo ferie da lavoro per lavorare cioè fantastico e è uguale sabato e sabato c'ho il matrimonio quindi ragazzi va bene così così ora mi ascolto un po di musica non ci voglio pensare ci aggiungiamo dopo ragazzi e signori siamo quasi mezzanotte appena nata via maria che tra l'altro mi ha portato una tortina che devo ancora assaggiare quindi la farò domani a colazione sembrerebbe buona ragazzi devo andare a letto devo recuperare un sacco di ore di sonno e mannaggia me mannaggia me domani sono da remoto quindi riesco a dormire almeno un'ora in più si spera in teoria voi mi piace commentate iscrivetevi al canale attivate la campanella ricordate l'algoritmo si sfama delle vostre interazioni quindi veloci su su spicci noi ci vediamo domani per un prossimo video alle 11 ragazzi alle 11 a domani ciao